Lo studio dove fanno il podcast è il suo e lui di solito sta giù a lavorare e ieri durante il podcast è salito per intervenire e chiacchierare insieme a noi, che vuol dire che comunque si è andata, abbiamo toccato temi molto fighi. Invece chi mi chiede aggiornamenti suomi gli dico che ha trovato una casa, in questa casa vivrà o da solo o al massimo lui e Lorenzo, quindi sfuma la possibilità di andare in tre a vivere o comunque io ad avere lo studio e loro due a vivere, ma lo sapevamo, sono veramente felice che lui abbia trovato la casa, almeno per lui e per forse Lorenzo. Adesso non so quando avverrà questo trasferimento, però lui durante un momento dove forse non dovevamo parlare di cose serie e venerdì sera mi ha detto, sì comunque puoi avvisarli, ho una casa. E io ho detto, vabbè, fa tu sei l'unico che può avvisare i modificati e che non mi arrabbio. E lui mi ha detto, di che ho una casa. Benissimo. Solo che non so adesso quando ci va, però è già una notizia importante, sono contentissimo per lui. Poi, PsyTiz su Casillas ti prego, altra news di oggi.